Siamo con Iudi Bettolini, sindaco quindi di Chiusi, anche per parlare delle prossime regionali, siamo ormai all'inizio della campagna elettorale. Che giudizio dà di queste prime uscite pubbliche da parte dei candidati con la cercadia che è partita subito comunque molto all'attacco nei confronti del candidato del centro sinistra Gianni? Ma ancora sono le prime schermaglie, penso che il cuore ovviamente della campagna elettorale dovrà attendere qualche giornata, poi si apre la fase di distensione perché il mese di agosto notoriamente gli italiani e anche i toscani si riposeranno, staranno un po' con le proprie famiglie quindi ci sarà un calo dell'attenzione. Penso che dopo il 20 di agosto inizierà la vera campagna elettorale e lì cominceremo a vedere non solo le avvisaglie ma anche la differenza sostanzialmente tra centro-destra e centro-sinistra. Oggi possiamo semplicemente dire che abbiamo un centro-sinistra che sta facendo quadrato, che con il suo candidato Eugenio Gianni sta portando un elemento di serenità, di tranquillità nella Toscana, sta portando temi affrontati con lo stile giusto, con la correttezza giusta anche nel rispetto dell'avversario, mentre vediamo dall'altra parte ovviamente una campagna più forte, più aggressiva già nei primi momenti. Però insomma il tempo che ci separa dal voto da qui il 21 settembre è ancora molto lungo, per cui vediamo dai, vediamo. Io penso che a prescindere da tutto la campagna elettorale, quando si svolge una campagna elettorale è il momento di crescita, sia di un comune quando si svolge per un sindaco, sia per la regione toscana, perché è il momento in cui immaginiamo i prossimi dieci anni e per farlo occorre tanta responsabilità, tanta concretezza, ma è il momento più bello perché immaginiamo come costruire il futuro. Un'altra domanda, diciamo il Partito Democratico ha finora confermato la candidatura nel nostro territorio ancora di Simone Bezzini. Innanzitutto vorrei chiarire qual è stato il suo apporto con Simone Bezzini se auspica che ci siano candidati anche nella zona della Valdichiana Senese. Io mi auguro di sì, mi auguro innanzitutto che il Partito Democratico abbia coraggio, perché noi non possiamo pensare di appiattire la campagna elettorale del nostro territorio puntando su una persona seria e responsabile come Simone Bezzini. Simone Bezzini è un buon candidato, è una persona concreta, è una persona onesta, che rappresenta un pezzo, un mondo, ovviamente, di una politica, non ha l'ambizione e nessuno di noi deve commettere l'errore di concedergli, di pensare di rappresentare ovviamente tutto il partito e tutta la cittadinanza e le varie comunità. Il Partito Democratico, se vuole giocare una partita all'attacco perché sarebbe sbagliato sottovalutare la forza che potrebbe esprigionare la Susanna Ceccardi, noi dobbiamo mettere in campo le migliori energie e ogni territorio deve essere umile da pensare di individuare le migliori energie che abbiamo a disposizione a costo di candidare le punte di diamanti, che non ce l'ha solo l'Italia Viva, ma le punte di diamanti ce l'ha anche il Partito Democratico. Serve un po' di umiltà e di coraggio della nostra classe dirigente di chiamare le forze forti in questo momento che possono dettare un cambio di passo nel nostro territorio. La Valdichiana ha bisogno di una candidatura forte e autorevole, non penso che la candidatura di Simone Bezzini possa essere esaustiva dei bisogni e delle necessità di rappresentanza di questo territorio, la Valdichiana deve avere coraggio di puntare su un candidato forte. Questo è secondo me il bisogno che sentiamo anche come sindaci di essere rappresentati da chi ha nel cuore la Valdichiana e con tutto rispetto ovviamente di Simone Bezzini che è un candidato autorevole, però le esigenze della Valdichiana le conoscono i cittadini della Valdichiana e quindi c'è bisogno di dargli una grande forza. E poi io penso che dobbiamo avere il coraggio della trasparenza e della sincerità verso il nostro elettorato, dobbiamo parlare dei temi anche quelli più difficili come l'economia circolare, penso ai grandi investimenti e alle infrastrutture, noi dobbiamo avere un linguaggio diverso da quello che abbiamo avuto finora, non dobbiamo parlare di politichese ma dobbiamo parlare la lingua che tutti i nostri concittadini conoscono, ovvero quella della schiettezza e della sincerità. Dobbiamo dire le cose per come sono e dobbiamo dire quali investimenti fare in questo territorio, attrarre posti di lavoro, rigenerare economia perché oggi come oggi il vero grande tema è come tante famiglie riescono ad arrivare alla fine del mese. Compete la politica, dirlo, e compete a questa campagna elettorale farsi carico di questo bisogno e di queste necessità. Mi attendo e mi auspico davvero una campagna elettorale che sappia parlare a tutti, ma soprattutto portando temi veri, temi che riguardano la crescita delle nostre comunità, il lavoro e l'economia sono temi davvero utili, importanti e dopo l'emergenza Covid io penso che non si può non parlare di questi temi in maniera sincera. A proposito di concchiettezza, la prossima stagione sarà fondamentale la parte degli investimenti pubblici, infrastrutturali, c'è stato il decreto semplificazione ancora deve essere messo per iscritto. C'è un'infrastruttura in questa zona che lei reputa realizzata in tempi rapidi come veicolo di crescita? Assolutamente sì, penso al raddoppio all'elettrificazione della Siana Chiusi, questo per noi è fondamentale, riuscire a collegare questo territorio rispetto al capoluogo, ovviamente facendo terminare i disagi che ci sono e colmare quel gap infrastrutturale e anche ambientale. Se noi pensiamo che questo collegamento è ancora gestito con treni a gasolio, ovviamente diventa un motivo ancora di una battaglia che dobbiamo portare avanti. Mi fa piacere che il governo abbia indicato nelle priorità e quindi nelle azioni principali da compiere quelle dell'elettrificazione di tutte le linee italiane, quindi mi auspico, penso e spero, che con la campagna elettorale che sta partendo per la regione toscana la Chiusi Siena sia una delle infrastrutture. Ma penso per esempio alla necessità anche di dotare un'ulteriore casella autostradale all'uscita di Montepulciano, stazione, quindi io penso che la ex cosiddetta è tutta conosciuta da ex pavesi, lì in quell'area secondo me va potenziata l'uscita per ciò che riguarda una opportunità di collegamento autostradale rispetto all'ospedale di Nottola, secondo me è fondamentale perché noi in questo territorio paghiamo ancora lo scotto di aver ubicato l'ospedale in un punto ancora difficilmente raggiungibile anche dalle principali rotte di comunicazione come l'autostrada, poi pensiamo a dei grandi investimenti per esempio sul lago, sui laghi, noi abbiamo il lago di Chiusi e il lago di Montepulciano nella Val di Chiana che possono diventare un unicum in questo momento se collegati insieme da progetti di valorizzazione per attrarre in questo territorio non solo i nostri concittadini ma anche rappresentare un'offerta per tanti italiani e per tanti stranieri se saper collegare la bellezza della nostra natura rispetto a una ricettività diffusa del nostro territorio. Dobbiamo vincere questo e poi penso che dalla Val di Chiana noi dobbiamo giocare una partita importante per la costruzione definitiva di un piano regolatore unico che stiamo provando a fare per esempio come Unione dei Comuni in cui è necessario avere una visione di sviluppo di insieme di tutti i comuni. Questi sono i temi che dovrebbero essere affrontati nella campagna elettorale e che la Regione Toscana se ne deve fare parte protagonista per raggiungere questi nostri obiettivi fondamentali direi per le nostre comunità.